Oggi ci immergeremo in un tema che tocca profondamente il cuore e l'anima di ciascuno di noi, il nostro potere personale. In un mondo che sembra spesso frenetico e caotico, ci troviamo a combattere per far sentire la nostra voce e per esprimere chi siamo veramente. Molti di noi vivono come se fossero intrappolati in una gabbia invisibile, bloccati da abitudini e comportamenti che, invece di portarci avanti, ci tengono ancorati al passato o alle aspettative altrui. Ma è davvero così difficile riconoscere queste catene e liberarsene? Immaginate per un momento di avere la chiave per aprire quella gabbia. Immaginate di liberarvi da tutto ciò che vi frena e di riscoprire la vostra autentica essenza. La buona notizia è che questo potere è già dentro di voi. Tuttavia, ci sono abitudini dannose che tendiamo a mantenere, spesso inconsapevolmente, che bloccano il nostro cammino verso la realizzazione personale. Oggi parleremo di 5 di queste abitudini e di come possano sabotare la vostra vita, ma non temete. La consapevolezza è il primo passo verso la liberazione. Non si tratta di una semplice critica a noi stessi, ma piuttosto di un viaggio verso la scoperta e la crescita personale. Impareremo come trasformare queste abitudini in opportunità, in modo da poter finalmente prendere il controllo delle nostre vite e abbracciare il nostro vero potenziale. Ora, è fondamentale sottolineare che l'ultima abitudine che esploreremo oggi è quella più importante, spesso sottovalutata eppure cruciale per il nostro percorso. Essa racchiude in sé la chiave per sbloccare una parte di noi che abbiamo dimenticato. È il momento di approfondire questi aspetti e vedere come possiamo tutti progredire nel nostro viaggio di crescita personale. Quindi, preparatevi a scoprire come lasciare andare ciò che non vi serve più e ad abbracciare il vostro potere personale. Non dimenticate di iscrivervi al canale Whispers of Wisdom, attivare la campanellina e lasciare un like per supportare il video e il canale. I vostri commenti sono sempre benvenuti, perché insieme possiamo creare una comunità che si sostiene e cresce, passo dopo passo, verso una vita di autenticità e realizzazione. 1. Smetti di fare sogni ad occhi aperti sul futuro. Iniziamo il nostro viaggio affrontando una delle abitudini più insidiose che ci trattiene, il sognare ad occhi aperti sul futuro. Spesso ci troviamo immersi in fantasie di ciò che potrebbe essere, fantasticando su successi, relazioni perfette o vite senza preoccupazioni. Questo modo di pensare, inizialmente allettante, diventa un rifugio sicuro, una fuga da una realtà che ci sembra difficile o insoddisfacente. Ma qui sorge il pericolo. Quando ci perdiamo in questi sogni, lasciamo che il presente scivoli via, come sabbia tra le dita. La verità è che i sogni ad occhi aperti, sebbene possano sembrare un modo innocuo per evadere, possono anche diventare una trappola. Ci imprigionano in un mondo di illusioni, in cui viviamo aspettative irrealistiche e ci allontaniamo da ciò che possiamo realizzare oggi. Questa abitudine, insidiosa e contagiosa, ci porta a procrastinare, a rimandare le azioni necessarie per costruire davvero la vita che desideriamo. La paralisi dell'azione si insinua nella nostra mente e ci ritroviamo a trascorrere le nostre giornate desiderando un futuro luminoso, mentre la vita passa in un attimo. In questo stato di stasi, il tempo diventa nemico e ci allontana sempre di più dai nostri obiettivi. Tuttavia, esiste una luce all'orizzonte. La consapevolezza di quanto stiamo sacrificando nel mondo reale è il primo passo per liberarci da questa illusione. Quando iniziamo a riconoscere l'importanza del momento presente, ci rendiamo conto che ogni piccolo gesto, ogni azione quotidiana, ha il potere di avvicinarci ai nostri sogni. È attraverso l'azione concreta che possiamo costruire il futuro che desideriamo. Non è nei sogni, ma nella realtà tangibile che si trovano le opportunità per crescere e trasformarci. Abbracciare il presente significa anche accettare che il futuro non è una destinazione, ma un viaggio. Ogni giorno è un passo verso la nostra realizzazione. Ogni scelta consapevole, ogni sforzo, ci porta un po' più vicino a ciò che vogliamo diventare. Impariamo a non vederci più come spettatori passivi, ma come architetti della nostra esistenza. La bellezza di questa presa di coscienza è che possiamo iniziare a vivere i nostri sogni ora, piuttosto che aspettare un domani ideale che potrebbe non arrivare mai. In questo modo, ci rendiamo conto che il vero potere non risiede nella mera fantasia, ma nella capacità di agire, di trasformare le nostre visioni in realtà attraverso il lavoro e la determinazione. Quando smettiamo di sognare a occhi aperti e iniziamo a vivere pienamente nel presente, apriamo la porta a un'infinità di possibilità. Le nostre azioni quotidiane diventano i mattoni su cui costruiamo il nostro futuro e la nostra vita si trasforma in un meraviglioso mosaico di esperienze che ci arricchiscono. La liberazione da questa abitudine non è solo una questione di efficienza, ma un atto profondamente spirituale. È una riconnessione con la nostra essenza, un riconoscimento che ogni istante è sacro e che il potere di creare e realizzare è sempre stato dentro di noi. Abbracciando il presente, liberiamo il nostro potere personale e iniziamo a scrivere una storia autentica, ricca di significato e realizzazione. 2. Smetti di vivere per compiacere gli altri. Passiamo ora a un'altra abitudine che ha il potere di oscurare il nostro autentico potere personale, vivere per compiacere gli altri. In un mondo che ci spinge costantemente a cercare l'approvazione e l'approvazione degli altri, ci troviamo spesso a sacrificare la nostra identità e i nostri desideri più profondi. Siamo inondati da messaggi che ci dicono come dovremmo essere, cosa dovremmo dire e come dovremmo vivere. La ricerca della convalida esterna diventa un'ossessione, trasformando la nostra vita in una continua performance, dove ogni nostra azione è calcolata in base a come potrebbe essere percepita dagli altri. Questo atteggiamento di compiacenza porta inevitabilmente a una profonda insoddisfazione. La paura di deludere le aspettative altrui ci rende schiavi delle opinioni esterne, privandoci della nostra libertà di espressione e di autentica felicità. Ogni volta che ci pieghiamo per accontentare gli altri, ci allontaniamo da chi siamo veramente. Le nostre decisioni diventano una riflessione dei desideri altrui, mentre la nostra vera essenza rimane sepolta sotto strati di conformismo e paura. E così, la nostra vita si riempie di frustrazione e rancore, poiché sentiamo che ogni sorriso che facciamo non è un riflesso della nostra gioia, ma piuttosto un travestimento per mascherare il nostro malessere interiore. Tuttavia, c'è una strada verso la libertà che aspetta solo di essere percorsa. La vera potenza risiede nel riconoscere che il valore della nostra esistenza non dipende dall'approvazione altrui. Quando iniziamo a comprendere che ogni individuo ha il diritto di vivere la propria vita secondo i propri termini, possiamo iniziare a fare lo stesso. Liberarci dalla necessità di compiacere gli altri significa tornare a esplorare e abbracciare la nostra autenticità. È un atto di coraggio che ci permette di scoprire chi siamo veramente, senza maschere né finzioni. Impariamo a dire no quando ciò che ci viene richiesto non risuona con il nostro cuore. Scopriamo la potenza di esprimere i nostri desideri e le nostre esigenze, anche se questo significa andare contro il flusso. Questo percorso non è sempre facile. Ci saranno momenti di paura e di incertezza. La paura di essere giudicati, di essere esclusi o di deludere gli altri può affiorare, ma è proprio in questi momenti che dobbiamo ricordare che ogni grande cambiamento inizia con una decisione. La decisione di onorare la propria verità, di abbracciare la propria unicità e di vivere senza rimpianti. Vivere per se stessi è un atto di amore e rispetto verso noi stessi e, paradossalmente, anche verso gli altri. Quando siamo autentici, permettiamo agli altri di essere autentici. Questo non significa che dobbiamo abbandonare le relazioni, ma piuttosto che possiamo costruire legami più genuini, basati sulla comprensione e sulla reciproca accettazione. Impariamo a circondarci di persone che ci incoraggiano a essere la versione migliore di noi stessi, non quelle che ci costringono a vivere secondo standard che non ci appartengono. Quando scegliamo di vivere per noi stessi, liberiamo una potenza straordinaria. Ogni giorno diventa un'opportunità per esplorare le nostre passioni, per seguire i nostri sogni e creare una vita che risuoni con la nostra anima. Ci accorgiamo che la felicità non è un obiettivo distante, ma una scelta quotidiana, un modo di vivere che si irradia da dentro verso l'esterno. In questo modo, non solo riconquistiamo il nostro potere personale, ma diventiamo anche una fonte di ispirazione per gli altri. La nostra autenticità illumina la strada, incoraggiando chi ci circonda a liberarsi dai vincoli del compiacimento e a intraprendere il proprio viaggio verso la scoperta di sé. Riscoprendo il nostro valore intrinseco e abbracciando la nostra autenticità, possiamo finalmente vivere una vita che non solo è nostra, ma che brilla con la luce di chi siamo veramente. È un invito a scoprire la bellezza della nostra essenza, a coltivare la nostra gioia e a costruire relazioni genuine, arricchendo così il nostro percorso e quello di chi ci circonda. 3. Smetti di incolpare gli altri. Ora ci immergiamo in un'altra abitudine distruttiva che blocca il nostro potere personale, l'inclinazione a incolpare gli altri. Questo meccanismo di difesa è profondamente radicato nella nostra psiche. Ogni volta che qualcosa va storto, è così facile puntare il dito, trovare un colpevole esterno e rifugiarci nella nostra zona di comfort, dove possiamo giustificare le nostre frustrazioni e insoddisfazioni. Tuttavia, in questa dinamica, ci imprigioniamo in un ciclo di impotenza. Ogni volta che scegliamo di non assumere la responsabilità per le nostre azioni e le conseguenze delle nostre scelte, ci allontaniamo sempre di più dalla nostra vera potenza. La verità è che l'incolpare gli altri è un modo sottile ma efficace per eludere il nostro potere. Questa abitudine ci fa sentire temporaneamente sollevati, ma a lungo andare ci lascia con un vuoto profondo. Ci ritroviamo a vivere in uno stato di rabbia e risentimento, bloccati in una spirale negativa che ci priva di ogni possibilità di crescita. Le nostre relazioni si deteriorano, poiché ci costruiamo un muro attorno a noi, convinti che il problema sia sempre al di fuori, mai dentro di noi. Questa mentalità non solo mina la nostra autostima, ma ci rende anche vittime delle circostanze, incapaci di vedere le opportunità di cambiamento che ci circondano. Eppure, esiste una via di liberazione che ci conduce verso la consapevolezza e l'autosufficienza. Iniziare a prendere la responsabilità delle proprie azioni e delle proprie emozioni è un atto di potere straordinario. Non stiamo parlando di assumere la colpa per tutto ciò che ci accade, ma di riconoscere che, in ogni situazione, abbiamo sempre una scelta. Questa scelta può essere quella di reagire, di imparare e di crescere. Quando comprendiamo che abbiamo il potere di cambiare la nostra risposta agli eventi, cominciamo a riscoprire la nostra forza interiore. Abbracciare questa responsabilità significa anche riconoscere che ogni esperienza, buona o cattiva, è un'opportunità di crescita. Ogni errore diventa un insegnamento, ogni fallimento un trampolino di lancio verso nuove possibilità. Quando smettiamo di incolpare gli altri, apriamo la porta alla riflessione. Iniziamo a chiederci, cosa posso imparare da questa esperienza? Come posso crescere? Questa nuova prospettiva trasforma il nostro dolore in potere, rendendoci protagonisti della nostra vita. Non siamo più alla mercè delle circostanze, ma diventiamo i creatori del nostro destino. Imparare a prendere la responsabilità significa anche fare spazio alla compassione verso noi stessi. Quando ci rendiamo conto che tutti commettiamo errori, possiamo liberarci dal peso del giudizio e dell'autocritica. In questo modo, possiamo iniziare a costruire relazioni più sane e autentiche, basate sulla comprensione reciproca e sul sostegno. La consapevolezza di essere umani, imperfetti ma in continua evoluzione, ci avvicina gli uni agli altri e ci consente di condividere i nostri viaggi senza paura di essere giudicati. Adottando questo nuovo paradigma, ci rendiamo conto che il vero potere personale non risiede nel controllare gli altri o nel trovare colpevoli, ma nell'assumere il comando della nostra vita. Ciò implica anche imparare a perdonare, perdonare gli altri per le loro azioni e, soprattutto, perdonare noi stessi per le scelte sbagliate. Questo processo liberatorio ci permette di progredire e di costruire un futuro che risuoni con le nostre aspirazioni più genuine. Smettere di incolpare gli altri non è solo un cambiamento di atteggiamento, è un vero e proprio atto di rinascita. Ci conduce a una vita di maggiore autenticità, pienezza e libertà. Quando abbracciamo la responsabilità, non solo ci liberiamo dalle catene del passato, ma iniziamo a vivere una vita in cui siamo finalmente padroni del nostro destino, capaci di trasformare ogni ostacolo in un'opportunità e ogni delusione in una lezione di crescita. Questa è la via verso il risveglio del nostro potere personale e la bellezza di questo viaggio è che ci permette di scoprire la straordinaria potenza che risiede dentro di noi. 4. Smetti di tormentarti sugli errori del passato. Avventuriamoci in un tema profondo e spesso doloroso, il tormento degli errori del passato. Questo è un fardello che molti di noi portano come una catena invisibile che limita il nostro cammino verso la crescita e l'autorealizzazione. Ciò che è accaduto ieri, anche se segnato da decisioni sbagliate, fallimenti o rimpianti, diventa un peso che ci portiamo nel presente, offuscando la nostra visione del futuro. È facile lasciarsi catturare in questo ciclo di autocritica e ruminazione, dove ogni errore si trasforma in un giudizio su chi siamo e sul nostro valore. Rimanere intrappolati nel passato non è solo un pensiero ripetitivo, è una vera e propria trappola per la nostra anima. Ogni momento di rimorso che viviamo ci allontana dalla nostra essenza, ci fa dimenticare il potere che abbiamo di riscrivere la nostra storia. Ci sentiamo imprigionati in un tempo che non possiamo cambiare, fissati su ciò che avremmo potuto fare diversamente, mentre il presente ci scivola tra le dita come sabbia. Questo comportamento ci rende vulnerabili all'autosabotaggio, bloccando il nostro potenziale e relegandoci a una vita di insoddisfazione e incertezza. Ma in questo buio profondo c'è una scintilla di luce, una possibilità di trasformazione. La vera liberazione si trova nell'atto di accettare il passato, di abbracciare ogni errore come parte integrante del nostro viaggio. Ogni scelta che abbiamo fatto, giusta o sbagliata, ci ha plasmato, portandoci esattamente dove siamo ora. Comprendere che il passato non definisce il nostro futuro è fondamentale per riappropriarci del nostro potere personale. Invece di vedere gli errori come ostacoli insormontabili, possiamo iniziare a considerarli come lezioni preziose che ci hanno insegnato ciò che realmente desideriamo e chi vogliamo diventare. Abbracciare il nostro passato significa anche concederci il permesso di essere umani. Siamo tutti soggetti all'errore, è nella nostra natura. Tuttavia, ciò che ci distingue è la nostra capacità di imparare e di evolvere. Ogni esperienza difficile diventa un'opportunità di crescita. Quando iniziamo a guardarci con compassione, possiamo finalmente liberarci dal giudizio. Dobbiamo imparare a guardare i nostri errori attraverso una lente di comprensione e di amore. In questo modo, ci rendiamo conto che i momenti di difficoltà sono spesso le basi delle nostre realizzazioni più grandi. Il potere di trasformare il dolore in saggezza è una delle competenze più importanti che possiamo sviluppare. Ogni volta che lasciamo andare il peso del passato, liberiamo spazio per la gioia, la creatività e l'innovazione. Questo non significa dimenticare o negare le esperienze dolorose. Al contrario, significa integrarli nel nostro essere, permettendo loro di diventare parte della nostra storia, ma non il capitolo finale. Possiamo imparare a raccontare la nostra storia in modo diverso, dove ogni errore è una tappa di un percorso di crescita e non una condanna. Imparare a vivere nel presente è essenziale per il nostro benessere emotivo e spirituale. Ogni giorno è un'opportunità per ricominciare, per fare scelte diverse, per abbracciare chi siamo diventati grazie a ciò che abbiamo vissuto. Questo approccio ci riempie di un rinnovato senso di libertà. Quando ci lasciamo andare ai pesi del passato, possiamo finalmente brillare nella nostra autenticità, muovendoci verso il futuro con fiducia e speranza. Il passato non è un nemico da combattere, ma un alleato silenzioso che, se ascoltato, può offrirci insegnamenti preziosi. Abbracciare i nostri errori e smettere di tormentarci è un viaggio di autoscoperta che ci riconnette con la nostra potenza interiore. Scegliendo di non essere definiti dalle nostre scelte passate, iniziamo a scrivere una nuova narrazione, una narrazione che celebra la resilienza, la crescita e la bellezza dell'essere umano. Questo è il primo passo verso una vita piena di significato, dove il nostro passato diventa un trampolino di lancio per un futuro luminoso e autentico. 5. Smetti di cercare scorciatoie. Entriamo ora nel profondo della nostra ricerca di efficienza e successo. La tendenza a cercare scorciatoie. Viviamo in un'epoca in cui l'immediatezza è la norma. Siamo abituati a ottenere ciò che vogliamo con un semplice clic, a vedere i risultati in tempo reale. Questa corsa frenetica verso il risultato immediato ci ha portato a credere che le scorciatoie siano la via più semplice per raggiungere i nostri obiettivi. Tuttavia, questa mentalità è un'illusione che ci intrappola, una trappola che ostacola il nostro vero potere personale. Quando ci affidiamo a scorciatoie, ci illudiamo di risparmiare tempo ed energia, ma in realtà stiamo solo rinunciando alla profondità e al significato dei nostri sforzi. Ogni volta che scegliamo di evitare il processo, ci priviamo di esperienze fondamentali che ci formano. Le scorciatoie possono sembrare allettanti, ma in fondo sono come una via d'uscita dall'autenticità. Ci allontanano dalla nostra crescita, lasciandoci insoddisfatti e vuoti, come se avessimo perso un pezzo di noi stessi lungo la strada. Ciò che spesso non consideriamo è che le vere conquiste richiedono tempo, pazienza e perseveranza. Sono il frutto di impegno e dedizione. I percorsi più gratificanti sono quelli in cui ci investiamo completamente, affrontando le sfide e superando gli ostacoli con determinazione. Quando ci diamo il permesso di esplorare ogni fase del nostro viaggio, impariamo a conoscere noi stessi e le nostre capacità. Le esperienze che guadagniamo lungo la strada sono come perle preziose, che arricchiscono la nostra vita e ci preparano per le prossime avventure. Smettere di cercare scorciatoie significa riscoprire il valore del processo. Significa abbracciare le sfide e le difficoltà come opportunità di crescita personale. Ogni passo che facciamo, anche quelli che sembrano insignificanti, ci avvicina ai nostri obiettivi. Le piccole vittorie quotidiane, le lezioni imparate dai fallimenti, i momenti di riflessione e introspezione. Tutto questo contribuisce a costruire una vita ricca di significato. E così, anziché cercare la strada più veloce, possiamo decidere di goderci il viaggio, di ascoltare la nostra voce interiore, di seguire il nostro ritmo. La vera essenza del potere personale risiede nella nostra capacità di rimanere radicati nel presente, di vivere appieno ogni istante, senza fretta di arrivare alla meta. Impariamo a riconoscere che ogni passo è parte di un disegno più grande. Non si tratta solo di raggiungere un traguardo, ma di chi diventiamo nel processo. È in questo spazio di consapevolezza che riscopriamo la nostra autenticità e la nostra forza interiore. Adottare un approccio privo di scorciatoie ci insegna la resilienza. Le difficoltà che affrontiamo lungo il percorso ci preparano ad affrontare le sfide future con una nuova prospettiva. Ciò che una volta sembrava insormontabile diventa, attraverso l'esperienza e la crescita, una semplice parte della nostra narrazione. Scopriamo che non solo possiamo affrontare le sfide, ma possiamo anche trarre da esse insegnamenti che ci rafforzano. Smettere di cercare scorciatoie è un invito a riconnetterci con il nostro viaggio interiore. È un atto di coraggio e di autenticità che ci permette di abbracciare ogni istante, ogni sfida e ogni successo. Le strade più lunghe e tortuose possono rivelarsi le più gratificanti, perché ci offrono l'opportunità di diventare la migliore versione di noi stessi. In questo processo riscopriamo il nostro potere personale e la nostra capacità di creare una vita ricca di significato e bellezza. Ricordiamoci sempre che è nel viaggio che troviamo il nostro vero tesoro. Mentre concludiamo questo viaggio attraverso le cinque abitudini dannose che possono ostacolare il tuo potere personale, è fondamentale riflettere su quanto sia profondo e trasformativo questo percorso. Ogni capitolo ci ha offerto un'opportunità per guardarci dentro, per esaminare le credenze e le pratiche che spesso accettiamo senza pensarci. Ci siamo immersi in un'analisi critica e onesta, e da questa introspezione emergiamo più forti e consapevoli. Imparare a smettere di sognare ad occhi aperti sul futuro ci ha insegnato a essere presenti nel qui e ora, abbracciando la realtà delle nostre vite e delle nostre sfide. Libera da pressioni esterne e aspettative, viviamo per noi stessi, non per compiacere gli altri. Questo ci porta una nuova autenticità, in cui ogni azione e decisione è guidata dal nostro vero io, non dalle opinioni altrui. Confrontarci con la tentazione di incolpare gli altri ci invita a prendere la responsabilità delle nostre azioni e a riconoscere il potere che abbiamo di cambiare il nostro destino. Abbiamo anche esplorato l'importanza di liberarci dagli errori del passato. Lasciando andare ciò che non possiamo più controllare, ci permettiamo di aprire spazi nuovi e luminosi nel nostro presente. Questo è un gesto di amore verso noi stessi, una celebrazione della nostra crescita e della nostra evoluzione. Infine, abbandonando la ricerca di scorciatoie, impariamo a danzare con la vita, a gioire del viaggio e a riconoscere che la vera ricompensa risiede nell'impegno e nell'autenticità. Riconosciamo, dunque, che ogni piccolo passo che facciamo, ogni decisione presa con consapevolezza, è una celebrazione del nostro potere personale. In questo cammino, non siamo soli, siamo parte di un tutto più grande, e ogni cambiamento positivo che facciamo in noi stessi risuona nel mondo intorno a noi. La vera trasformazione avviene dentro di noi, e ogni abitudine che abbandoniamo ci avvicina a una vita piena di significato e gioia. In questo momento, vi invitiamo a riflettere su queste verità e a farle vostre. Che possiate portare con voi il potere della consapevolezza e della responsabilità, che possiate scegliere di vivere ogni giorno con autenticità e passione. Ricordate che il viaggio è vostro, e che ogni passo conta. E mentre chiudiamo questo capitolo, vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Ricordate di iscrivervi al canale Whispers of Wisdom, attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui nostri nuovi contenuti, e lasciare un like per supportare il nostro messaggio. Non dimenticate di commentare e condividere questo video per diffondere la saggezza e l'ispirazione a chi ne ha bisogno. Insieme, possiamo creare un mondo più consapevole e luminoso. Grazie per aver condiviso questo viaggio con noi.